Da aprile 2019 arriva il reddito di cittadinanza, un assegno mensile da 780 euro per i single e di 1300 euro per le famiglie. Ne hanno diritto 5 milioni di italiani, 1.700.000 famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta. Per ottenerlo bisogna essere cittadini italiani, europei o immigrati, ma da più di 10 anni, di cui due consecutivi, in Italia. Altre condizioni sono un indicatore ISEE inferiore ai 9.360 euro, un patrimonio immobiliare, eccettuata la prima casa, inferiore ai 30.000 euro e un patrimonio finanziario non superiore ai 6.000 euro. Siccome il reddito di cittadinanza è un aiuto per chi realmente è povero, può richiederlo chi non abbia acquistato un'automobile negli ultimi sei mesi, chi non possegga una barca e ovviamente non si trova in carcere. Inoltre non possono ottenerlo quelle famiglie in cui un membro si è licenziato dal posto di lavoro negli ultimi 12 mesi. Va richiesto al CAFO alle poste compilando e presentando il modulo predisposto dall'Inps per ottenerlo, però tutti gli appartenenti alla famiglia devono aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. In altre parole dovranno essere messi nella condizione di ricevere differenti proposte di lavoro. Di queste due potranno essere rifiutate, accettando però la terza, ma dopo il dodicesimo mese non si potrà più rifiutare nessuna offerta congrua. Pena la decadenza del sostegno. Il beneficio viene erogato con la carta reddito di cittadinanza che permetterà di effettuare prelievi ma non potrà essere usata per il gioco d'azzardo. La pena per chiunque dichiari il falso, occulti redditi o patrimoni, lavori in nero, dai due ai sei mesi di carcere con l'obbligo di restituire quanto percepito.